C'è una storia che tutti conosciamo, un racconto di bambini che volano, avventure sotto le stelle e un'isola magica dove il tempo sembra fermarsi. Ma ogni favola porta con sé un lato nascosto, un'ombra che sfugge alla luce e che raramente osiamo esplorare. In questo podcast ci immergiamo nel mito di Peter Pan, un viaggio che ci porterà non solo a riscoprire la magia di un personaggio immortale, ma anche a svelare i segreti più oscuri e profondi che si nascondono dietro la sua leggenda. Preparatevi a volare lontano dalle rive dell'immaginazione, verso un mondo che forse non avete mai davvero esplorato, fino ad ora. Io sono la Madama Bianca e questo è Voci dal Passato, la rubrica che esplora gli eventi storici più affascinanti e misteriosi. Immaginate di svegliarvi una mattina del 1 maggio 1912 e di leggere un curioso annuncio sul Times di Londra. Un regalo misterioso per i bambini vi aspetta nei giardini di Kensington, accanto al grande lago del Serpentine. Nessuna inaugurazione ufficiale, nessuna cerimonia, eppure qualcosa di magico è appena accaduto. Quel giorno i visitatori di Kensington Gardens si trovarono davanti ad una sorpresa mozzafiato. Una statua di bronzo, alta più di 4 metri, era apparsa improvvisamente sulla riva del lago. Raffigurava un ragazzo, intento a suonare un flauto, circondato da fate, topolini e scoiattoli. Quel ragazzo era Peter Pan. Ma come era arrivata lì? Nessuno lo sapeva. James Matthew Berry, l'autore di Peter Pan, aveva voluto che sembrasse portata dalle fate stesse. Nessuno annuncio, nessuna firma, solo magia. Berry commissionò la statua allo scultore George Frampton, fornendogli delle foto di un bambino di circa sei anni, vestito con una casacca e una tracolla sfrangiata, un bastone sporgente dietro le spalle e un sorriso beffardo, che sembra pronto a sfidare il mondo con una maliziosa sicurezza. Lo sguardo è fiero, deciso, nero e un po' inquietante. Quel bambino si chiama Michael e secondo Berry incarna perfettamente l'anima del suo personaggio. Ebbene, una volta inaugurata l'opera, in mezzo ai tanti bambini sbalorditi e felici di questo nuovo ospite nel parco dei loro giochi, Berry, guardandola perplesso, rimane insoddisfatto. In quel volto il sorriso era pacifico e sdolcinato e la posa troppo innocente. Ed è evidente che lo scultore non abbia usato la foto del bambino. Così esclamò. Non vi traspare il demone che è in Peter. Parla di demone. Ma chi mai associerebbe Peter Pan ad una figura così oscura? Quando pensiamo a Peter ci viene in mente un ragazzino gioioso e vivace, immerso in avventure straordinarie e spensierate. La sua immagine è quella di un eterno fanciullo, non certo di un'entità inquietante. Ma allora perché Berry dice quelle parole? E chi è quel bambino? Michael. Ma partiamo dall'inizio. Dapprima che Berry scriva nel 1911 il romanzo che lo renderà celebre, Peter Pan e Wendy. La storia che noi tutti conosciamo. Andiamo ancora più indietro, prima ancora dell'opera teatrale, Peter Pan o il ragazzo che non voleva crescere, del 1904. Nei suoi primi scritti, Peter Pan non era esattamente il personaggio gioioso e birichino che conosciamo oggi. Nell'Uccellino Bianco, pubblicato nel 1902, Peter è presentato come un ibrido tra un uccello e un bambino, un essere solitario che vaga nei giardini di Kensington. Fondamentalmente un romanzo per adulti, che descrive in prima persona il rapporto di amicizia tra l'alter ego di Berry, il capitano V, un veterano di guerra quarantenne, che vive una vita monotona insieme al suo cane San Bernardo, Portos, e David. Tenete questo nome a mente, perché tornerà nella storia che vi sto raccontando. David è il figlio di Mary, la donna di cui il protagonista s'è innamorato. La relazione di amicizia tra il capitano V e David diventa sempre più complessa e profondamente toccante. Il capitano diventa una figura paterna per David e in cambio il bambino gli dà una nuova ragione di vita. Nei giardini di Kensington i due creano un mondo tutto loro, fatto di giochi e storie, un mondo che sembra sospeso nel tempo. Ed è proprio qui, nei giardini di Kensington, che nasce Peter Pan. Questi sono i sette capitoli centrali del romanzo, una fiaba nella quale il tempo si ferma in un mondo fatato, notturno, e i bambini non crescono. Nei giardini di Kensington, al centro del lago Serpentine, si trova un'isola dove vivono tutti i volatili di Londra, governata dal corvo Salomone. Un corvo che accoglie le preghiere delle donne che desiderano diventare madri ed invia nelle loro case fringuelli e passerotti, destinati a trasformarsi in bambini. Peter, uno di questi uccellini, ha solo sette giorni di vita quando la madre, inavvertitamente, lascia la finestra aperta e lui, spinto dal suo istinto, vola giù per far ritorno ai giardini di Kensington. Una volta al cospetto del saggio Salomone, apprenderà la sua condanna a restare in questa sorta di limbo, in questo essere-non-essere, né bambino né uccello. Peter, in un momento di sconforto e malinconia, decide di voler tornare dalla sua mamma. La vuole vedere ed è convinto che lei sia lì ad aspettarlo, ma quando arriva volando davanti alla finestra, la troverà chiusa ed oltre i vetri scorge una culla con un bambino che ha preso il suo posto. Per Peter è un dolore immenso che non riesce a sopportare. Per non soffrire, non pensare al dolore, preferisce dimenticare tutto e cancellare quei pensieri dolorosi. Perso l'amore di sua madre, torna definitivamente nei giardini del Kensington. Qualche tempo dopo, Peter incontra una bambina. Non si chiama ancora Wendy, ma Mamie, che si è persa nei giardini. I due diventano amici e Peter ne rimane talmente invaghito da chiederle di sposarlo. Mamie però rifiuta in quanto non vuole abbandonare la propria madre. La bambina torna a casa, ma non dimentica Peter e una volta diventata grande, gli regala una capretta, affinché Peter non si senta mai solo. Peter diventa così lo spirito benevolo dei giardini di Kensington, incaricato di un compito tanto tenero quanto inquietante. Seppellire i bambini che si perdono nei giardini, scavando per loro piccole tombe. E qui finisce quella che sembra la storia che anticipa Peter Pan. Due anni dopo, nel 1904, con l'opera teatrale intitolata Peter Pan o Il ragazzo che non voleva crescere, James Matthew Barry raggiunge la fama mondiale. Successivamente, nel 1911, con il romanzo Peter e Wendy, la storia di Peter Pan venne consolidata nella sua forma definitiva. In questa versione, Peter non è più un lattante, come nelle prime apparizioni, ma un preadolescente che sa volare, diventando così il personaggio che sarebbe poi entrato nell'immaginario collettivo e nella cultura popolare. La storia inizia con Peter Pan, che ascolta di nascosto le fiabe che la signora Mary Darling racconta ai suoi figli, per farli addormentare, sbirciando attraverso la finestra aperta. Una notte, mentre tenta di fuggire senza essere scoperto, Peter perde la sua ombra. Decide di tornare nella casa dei Darling per recuperarla e durante questa visita notturna sveglia Wendy, la figlia maggiore. Wendy lo aiuta a riattaccare l'ombra e, in cambio, Peter la invita a seguirlo sull'isola che non c'è, insieme ai suoi fratellini, John e Michael. Lì, Wendy potrà fare da madre adottiva ai bambini perduti, un gruppo di ragazzi che, come Peter, si rifiutano di crescere. Sull'isola che non c'è, i fratelli e Peter vivono numerose avventure. Incontrano personaggi come la gelosa fatta Trilly, il terribile capitano Uncino, che dà del filo da torcere a Peter e ai suoi amici. Dopo aver affrontato mille peripezie, i ragazzi decidono di tornare a casa dai loro genitori, salutando Peter, che promette a Wendy di tornare a trovarla ogni primavera. Tuttavia, Barry aggiunse in seguito un epilogo intitolato «Quando Wendy ebbe un ripensamento». In questa parte della storia sono passati molti anni dall'ultima visita, e quando finalmente Peter ritorna, trova Wendy ormai adulta, invecchiata e madre di una bambina di nome Jane. Sentendosi tradito dal fatto che Wendy sia cresciuta, Peter decide di chiedere a Jane di diventare sua madre, proprio come aveva fatto un tempo con Wendy. Wendy non è delusa da questo cambiamento, anzi, spera che un giorno Jane abbia a sua volta una figlia, così anche lei possa diventare amica di Peter. In questo modo Peter non sarebbe mai solo, e avrebbe sempre una compagna di giochi, rimanendo per sempre il bambino che non voleva crescere. Ma una trama non basta per capire fino in fondo Peter, e allora bisogna andare un po' più vicini e scrutare l'uomo che gli ha dato vita, perché non si può comprendere davvero Peter Pan senza conoscere la vita e le esperienze di Barry. In realtà Barry non lo sa, ma forse è lui Peter Pan. Un giovane uomo dal fisico minuto, ossuto dalla straordinaria capacità di entrare in sintonia con il mondo dei bambini e un disperato senso di inadeguatezza sul proprio stare al mondo. Barry nasce il 9 maggio 1860, in un piccolo villaggio della Scozia. Ci sono molti fratellini, 10, e lui è il penultimo. È un bambino piccolo e gracile. Fin da subito ignorato dai fratelli più grandi, si rifugia in storie fantasiose che crea lui stesso. Ma poi la tragedia. Il fratello maggiore David, 14enne, muore per una caduta mentre pattina sul ghiaccio. David era il figlio prediletto della madre e la sua morte lasciò un vuoto incolmabile nella vita di Margaret. Per lei, David, sarebbe rimasto per sempre il ragazzo perfetto, eternamente giovane, simbolo dell'innocenza perduta. La morte di David gettò Margaret in una profonda depressione, un dolore così straziante, che Barry, allora solo un bambino, cercò disperatamente di alleviare. Il piccolo Barry cercherà di competere con questo fratello irraggiungibile e meraviglioso che sarebbe sempre rimasto all'età di 14 anni. Forse è in quel momento che si configura il personaggio del ragazzo perduto. David, proprio come il bambino dell'uccellino bianco, di cui Capitan V è così amico. Barry indosserà i vestiti di David, imparerà a fischiare, a muoversi come lui e poi reciterà piccole scenette imitando persino la voce del fratello. Una patetica figurina che ha l'ansia di rallegrare una madre che non vuole più alzarsi dal letto. Così avvenne. Barry si trasformò in David un po' alla volta e donò il sorriso alla madre, che accettò la morte del figlio, immaginando che non sarebbe mai invecchiato, che sarebbe rimasto un eterno fanciullo. Proprio da questo dolore, probabilmente, nacque l'idea di Peter Pan, un ragazzo che non invecchia mai, che rimane per sempre sospeso tra l'infanzia e l'eternità. Non è solo una fuga dalle responsabilità, ma una rappresentazione di quel dolore che Barry non riuscì mai a superare. Peter Pan era, in un certo senso, il fratello che non avrebbe mai raggiunto l'età adulta. Così facendo, forse, Barry mise fine alla sua personalità, decidendo di non crescere come se stesso. Il giorno in cui morì David, in realtà, morì anche James. Peter è l'emblema di un'infanzia perduta. È la reazione che sembra indifferente, ma che cela un dolore lacerante. È un bambino a cui è negato il futuro, poiché è morto prima ancora di diventare del tutto reale. Ma la vita di Barry, in qualche modo, va avanti. Crescendo il suo aspetto fisico, alto poco più di un metro e cinquanta, con un viso da adolescente, accentua la sua vulnerabilità, rendendolo ancora più consapevole della sua estraneità rispetto ai coetanei. Dopo la laurea, Barry tenta la carriera di giornalista, ma il suo stile emotivo e fantasioso non trova spazio nel rigido mondo della cronaca. Nel 1894, Barry si sposa con l'attrice Mary Ansel, ma il loro matrimonio è destinato a naufragare. La mancanza di figli e le differenze caratteriali portano ad una separazione che lascia Barry ancora più solo. Un giorno del 1897, seduto su una panchina nei Kensington Gardens, vicino ad Hyde Park, con il cane Portos, proprio come il cane di Capitan V, James Barry fa il più importante incontro della sua vita. Conosce per caso i tre giovani figli dei coniugi Sylvia e Arthur Davis, George, il più grande, John, il secondo, anche se tutti lo chiameranno Jack, e ancora nella culla il piccolo Peter. Lo zio Jim, come viene soprannominato dai ragazzi, inizia a prendere parte a quei divertimenti infantili, ricchi di fantasia e spensieratezza. Diviene il compagno di giochi di quel piccolo gruppo di bambini, animato da quello stato di fanciullezza che non sarebbe mai scomparso dalla sua personalità. Poco dopo nasceranno altri due figli, Michael e Nicholas, detto Nico. Nel tempo, il rapporto tra Barry e la famiglia Davis si approfondisce sempre più. Barry prende a cuore i ragazzi, nonostante la preoccupazione e l'irritazione del loro padre, Arthur, e Barry regala loro cose, vacanze e un intero mondo di fantasia in cui giocare. Il personaggio di Peter Pan viene inventato per divertire George e Jack. Barry gli racconta che il piccolo Peter, allora neonato, era in grado di volare. I bambini, tutti i bambini prima di nascere, sono degli uccelli e i genitori mettono le sbarre alle finestre delle loro camere per evitare che volino via. Il legame con i cinque fratelli Davis si rafforza quando a distanza di tre anni, l'uno dall'altra, morirono per malattia i genitori. Prima Arthur e poi Silvia. Nel 1910, Barry, ormai già ricco, diventa il tutore dei ragazzi e si occupa di finanziare i loro studi. Progressivamente, però, lo zio Jim, che li aveva conquistati con le sue storie affascinanti, cominciò a diventare per loro una presenza ingombrante. I fratelli crescevano, diventavano adulti. Lo zio Jim, invece, non voleva crescere. Era l'eterno bambino che un giorno di tanti anni prima aveva incrociato George, Jack e la bambinaia con il piccolo Peter. Loro stavano lasciando l'isola che non c'è, fatta di giochi, avventure e fate. E allora, quel gioioso legame cominciò a tingersi di ombre. Lo scrittore Lawrence una volta osservò con amarezza, James Matthew Barry ha un tocco fatale per coloro che ama. Essi muoiono. Queste parole risuonarono con una tragica verità nel destino della famiglia Davis. Che cosa accadde a chi ha abitato in un'isola che non c'è? Quello che capita ai bimbi sperduti di Barry fu naturalmente la prima guerra mondiale. «Morire sarà una grande e meravigliosa avventura», affermava allegramente Peter Pan dal suo scoglio, un'idea che la guerra tradusse in realtà. George, il maggiore dei fratelli Davis, viene ucciso a soli 21 anni in trincea, nel 1915. Anche più scura la sorte di Michael, il fratello prediletto da Barry, quello di cui abbiamo parlato all'inizio, che con il suo sguardo fiero aveva ispirato Barry, annegò nel 1921 con il suo amico e probabile amante Rupert Buxton, in circostanze mai chiarite in uno specchio d'acqua nei pressi di Oxford. Non sapeva nuotare e i due decessi vennero interpretati come un possibile patto suicida. Barry ne ebbe il cuore spezzato. Oltre modo triste e in qualche modo conclusivo, è il destino di Peter Davis. Divenne un editore di successo. Riunì e curò i documenti e le lettere di famiglia in una raccolta che chiamò The Mork, che significa l'obitorio. Nel 1952 bruciò le oltre 2000 lettere che costituivano la corrispondenza tra Barry e Michael. Detestava essere associato a quel terribile capolavoro. Il 5 aprile 1960, dopo una serata passata al bancone del Royal Court Hotel, entrò nella stazione di Sloan Square e si gettò sotto un treno. Aveva 63 anni ed erano passati solo sette mesi dalla morte di suo fratello maggiore, John, nel 1959. La sua morte venne registrata con titoli come Il ragazzo che non è mai cresciuto è morto ed anche Il salto mortale di Peter Pan. E così morì l'innocenza delle storie per ragazzi. Per tutta la sua vita adulta è stato chiamato Il ragazzo che è stato Peter Pan. E convivere con questi fantasmi non è facile. Un continuo confronto con un passato in cui la spensieratezza dell'infanzia si era trasformata in un oscuro ricordo. Solo Nico, il più giovane dei fratelli, visse una vita relativamente serena, senza mai nutrire rancore verso Barry o l'eredità di Peter Pan. Collaborò alla realizzazione della miniserie The Lost Boys, dedicata alla storia dei cinque fratelli Davis e alla loro relazione con Barry. E trascorse gli ultimi anni ricordando con affetto la loro infanzia. Morì a 76 anni nel 1980, chiudendo così la storia di una famiglia che aveva portato sulle spalle l'eredità pesante e ambivalente di uno dei miti più celebri della letteratura per ragazzi. James Matthew Barry morì nel 1937, lasciando un'eredità complessa. Fu almeno risparmiato dal vedere la conclusione della storia di Peter e di John, poiché morì prima che si compisse il tragico destino dei ragazzi a cui si era dedicato. Nonostante la generosità e la ricchezza, niente prevenì le tragedie che colpirono i ragazzi di cui si prendeva cura. Barry lasciò un'eredità straordinaria per i bambini malati dell'ospedale di Great Ormond Street, i diritti di Peter Pan, che ancora oggi continuano a generare entrate. Sir James Matthew Barry morì il 19 giugno 1937, con a fianco Peter, Nico e Cynthia, moglie di Nico. Nico notò che Barry era stanco e desiderava andarsene. Le sue ultime parole furono «non riesco a dormire». Quel demone di Peter Pan, dunque, forse non è una forza malvagia, ma un simbolo del rifiuto della realtà, un riflesso delle paure e dei dolori che Barry cercava di esorcizzare attraverso la sua scrittura, era l'ombra di un bambino che non poteva più tornare a casa, condannato a rimanere in un'isola senza tempo, dove non c'è crescita, né amore, né vera felicità. Questo demone è la triste consapevolezza che l'infanzia non può durare per sempre, e che nella ricerca di fuggire dal dolore della vita adulta, Peter Pan, David e forse lo stesso Barry si erano persi per sempre in quel limbo senza ritorno. E così, la statua nei giardini di Kensington, pur celebrando il mito di Peter Pan, rimane anche il simbolo di un'ombra più profonda, quella del ragazzo che non voleva crescere, ma che nel suo desiderio di mantenere viva l'innocenza, ha finito per perdere se stesso.